Artigianato in Villa La casa. 40 espositori artigiani, accomunati dall'eccellenza delle loro produzioni, hanno dato vita ad un'edizione 2010 di Artigianato in Villa che ha raccolto grandi consensi, dimostrando non solo che il pianeta casa è interessato da continue innovazioni, ma che le nostre aziende di questa evoluzione sono le migliori interpreti. Vuole essere una rappresentazione delle eccellenze nel mondo della casa. Nella zona ci sono molte aziende attrezzate per dare risposte importanti ai committenti che ne hanno bisogno. Entusiasti anche i bimbi. Per loro la mostra proponeva truccioli fantasia, spazio dedicato alla manualità e alla creatività, con laboratori nei quali esperti artigiani del legno mettevano alla prova i giovanissimi nell'arte della lavorazione di questo materiale unico. Una casa moderna, oggi, deve essere dotata di nuovi sistemi per il risparmio energetico. Sotto questo profilo, fotovoltaico e solare termico sono opportunità irrinunciabili, utili anche ad una maggior tutela dell'ambiente. Nel corso della rassegna era a disposizione dei visitatori uno sportello dell'ufficio innovazione ed energia dell'Asso Artigiani, per fornire agli utenti informazioni e una prima analisi e stima di prefattibilità nel campo del risparmio energetico. Questo servizio fa parte di un progetto che è il progetto Solardi, che non sarà limitato a questa manifestazione, ma è un ufficio permanente che tutti i cittadini artigiani e non possono utilizzare interpellando la sede provinciale dell'Associazione Artigiani. Indubbiamente il nostro progetto Solardi continua, continua con il nostro impegno per informare gli utilizzatori, perciò tutti i cittadini artigiani e non, di quali vantaggi porta l'utilizzo di energie rinnovabili, soprattutto a livello ambientale, ma anche a livello di contributi ed incentivi per ammortizzare l'investimento effettuato. Particolare successo ha riscosso anche l'iniziativa dei ristoratori, panificatori e pasticceri che hanno riservato ai visitatori le loro squisitezze in un percorso di scoperta della più genuina arte gastronomica nostrana. Pane, dolci e ricette della nostra tradizione sono stati proposti nelle loro diverse fasi di lavorazione, dagli ingredienti al servito in tavola, per tutti quindi la possibilità di conoscere e degustare. Abbiamo cercato di mettere insieme le varie categorie degli alimentaristi, compresa quelle dei ristoratori. Cos'è che vogliamo fare? Vogliamo trasmettere la cultura del mangiare bene, del mangiare sano, del mangiare poco ma bene. Questa è un'ennesima dimostrazione che tutto e della massima qualità si può trovare a chilometro zero? Certamente sì perché per noi è fondamentale lavorare con le materie buone e soprattutto quelle importanti e semplici. Non utilizziamo nessun tipo di materiale all'interno delle nostre preparazioni che non sia naturale. In questa manifestazione abbiamo provato ad insegnare tutti insieme, fra le mura domestiche, come si può fare a produrre un qualcosa che si possa trovare anche dopo al ristorante, al panificio e al gelataio. Ecco, dai ristoratori artigiani comunque si può imparare molto, insomma, che non si sa soprattutto la qualità, suppongo. Sì, appunto, la qualità è molto importante perché se noi vi insegniamo come dare un occhio ai vari prodotti, poi anche quando andate al mercato oppure andate in un ristorante, potrete dare appunto a primo impatto subito un occhio alla qualità e alle pulizie e alla tipicità del prodotto. Per Montorso e per l'Ovest Vicentino, Artigianato in Villa è ormai un appuntamento fisso che valorizza il territorio e l'economia locale.